oddio finalmente posso scegliere edgar l'abbiamo fatta e andiamo pure con un premio star vediamo un po epico monete va bene sono sempre utili ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video come vedete siamo tornati su brawl stars e oggi come avrete letto dal titolo andremo a provare il nuovissimo campione melody che tra l'altro costa 23 euro e 99 è una follia però io l'ho provato in uno scontro di prova e devo dire che è veramente forte non ci resta che confermare l'acquisto e sbloccare subito il nuovo brawler mitico un sicario ok vediamo adesso tutte le cose che sblocchiamo perché ci darà un bel po di roba ah no no si sbloccano tra più giorni ok ogni giorno per sette giorni quindi ci daranno varie cose ottimo alla fine una skin tra l'altro ieri ero con nexiao e mi ha convinto a pagare il pass quello premium che costa un po di più però da tipo 12 euro ho fatto un sacco di partite infatti dal primo video che avevo fatto su brawl stars a questo come vedete ho già 400 e passa coppe in più però comunque sono sempre pochine quindi oggi andremo a giocare non dico di arrivare a mille in questo video ma quasi quasi quindi facciamo subito gioca vado a fare un bel ko con persone sconosciute spero di non innervosirmi troppo no ma non ho selezionato melody che stupido sto facendo una partita concolto vabbè questo la prenderemo come riscaldamento quindi se faccio schifo ho la scusa ok ok no no mi devo nascondere mi devo nascondere mi ero fatto distratto un attimo vai ok round vinto siamo al prossimo mi ero distratto un attimo perché volevo aggiungere il suono del del gioco perché non c'era però non sono molto quindi fatto bene ok va benissimo round vinto e anche questa partita è vinta dai tra l'altro mi hanno dato il premio come migliore 50 monete allora andiamo qua prendiamo la nostra melody la andiamo a migliorare un po fino a quando i nostri soldi ce lo permetteranno ovviamente ok fino al 6 va bene voglio subito provarla andiamo a giocare dai raga occhio allora lei praticamente fa oltre a ogni attacco diceva ogni attacco prende queste note che girano attorno e fanno danno agli avversari poi in più con la ulti puoi saltare in stile edgar uh li ho fatti tutti e tre tutti muti oh è veramente forte melody mi piace mi piace un sacco ok allora con calma come prima si può fare si può fare dai dai scappiamo via bellissimo bellissima questa abilità veramente se si è usata bene fa tanti danni no il muro vai vai round vinto e scontro vinto perfetto il migliore di nuovo ok è comunque melody è veramente forte lo riconfermo già non lo sapeste sapreste la vereste voglio giocare ancora voglio giocare ancora vediamo se è stato un colpo di fortuna o se anche in questa partita ci riconfermiamo uh piano eh un po aggressivi i boys però ci stanno chiudendo raga stiamo facendo chiudere dai un po di modi evasivi ok non l'hanno buttato via sto scappando sto scappando signori ebbene si non l'ho ucciso io dai vinciamo anche questa erano un po scarsini i boys mi sa che uno di loro si è ritirato scappiamo via e si vince lo scontro di nuovo mi sa che questo partito ho giocato un po male infatti perché non ho fatto kill ho fatto solo un po di danno niente di che però ho vinto quindi andiamo avanti andiamo avanti faccio partita a raffica no mi sono bloccato però non sono molto lo stesso cioè è fighissima la ulti perché ti permette di scappare poi in più hai quelle note che ti girano attorno che fanno danni cioè è assurdo no ma cosa ha fatto quello là ma dai ma ci siamo fatti uccidere così che cosa devo fare ok eliminato colt siamo tre contro uno eh non possiamo sbagliare diciamo e infatti e infatti può perdere una volta massimo e sono di nuovo il migliore vai mi sta piacendo un sacco melody raro cos'è va bene potenziamenti mi servono più monete però calmi 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 guys ah ok scusate pensavo che stava andando male questa partita invece li avevano già eliminati tutti mi ero sbagliato vediamo un po' aiutiamo il compagno qua no vai vai ok 2 contro 1 2 contro 1 si è ricaricata la vita ma niente paura ok a posto passa la paura c'ho un premio qua da riscattare 430 per poco e sblocco ems manca poco andiamo compagni ok un eliminato c'è assurda la cosa delle note quando sei vicino fanno tantissimo danno smettere o mai di dirlo mi piace un sacco questo personaggio ok è andata così non ho fatto nulla nuovo livello super raro vediamo un po' nemote di bull ok eliminato eliminato eliminati siamo 2 contro 1 2 contro 1 vai vincevo anche questo dai che hanno paura dai che hanno paura non ho capito la tattica degli avversari sinceramente però abbiamo vinto e questa è la cosa importante vai non devi scappare ok vai 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 che eliminiamo un team sano intero mi sto gasando mi sto gasando tanto oh sono nascosti dai perché fanno questa cosa di nuovo eliminati tutti nuovo premio comunque raga non so se si era capito ma la modalità KO è una delle mie preferite poi fatemi sapere voi qua sotto nei commenti quale modalità preferite io finora preferisco la KO quella delle gemme sinceramente non non lo so non mi ispira tanto forse perché se non giochi con un team diventa veramente difficile però modalità KO anche da solo ti piace tanto tanto facciamo attenzione a non morire possibilmente ok andiamo andiamo a prendere andiamo a prendere quello là vai e si vince anche questo scontro sono a 10 vittorie di fila non l'ho eliminato io ma va bene lo stesso no devo scappare no mi ha eliminato se scappavo subito magari riuscivo a schivarlo però vabbè abbiamo vinto lo stesso ok senza paura nuovo premio vediamo oh abbiamo sbloccato EMS finalmente ok brawler epico inizio a sbloccare un nuovo brawler super raro tra questi tre uno di quelli che mi dà più fastidio è Dynamite quindi proverò a sbloccare lui no mamma mia che stupido ho perso la mia serie di vittorie che disfatta o comunque sono quasi a mille coppia siamo a 757 ne ho fatti un bel po' credo che continuerà a giocare e mi sa che vado a farmare un bel po' di coppie quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questo video e di questo personaggio che sinceramente a me piace un sacco e spero che questo video vi sia piaciuto ci vediamo presto un bacio ciao